Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Amena, sono qui con... Bella G. E Gilby. Ah è vero che ora ci vuoi vedere. Siamo famous, siamo famous. Allora, sono andati a tornare alla fumetteria, quella nuova che abbiamo scoperto. Sì, di merda. Siamo arrivati primo, secondo e terzo. Apriamo i pacchetti e inizia la G. Io ho i soliti problemi a spostare. Gilby che è arrivato secondo, ma è arrivato terzo, magicamente. No, perché io gli ho concesso una e l'hai detto, vabbè dai terzo, come l'hai concessa... Giusto. Lasciamo stare. Poi però ho vinto l'ultimo. Ora nel terzo pacchetto di Avena ci trova cosa? No. Redox. Ah, non c'è la Secret. Vabbè, l'ha inculato la Secret. Adesso che Mermail l'ha inculato... Sai che Secret, forca troia. E anche Secret. Va giocata, va giocata. Va giocata. Ma per l'amore di riuscire. Questi sono i commenti riguardo le carte Secret. Era un bel box quello, è un bel box. E magari ci sono due Secret. Ce l'ha insegnato Simpli. Ma a me sta bene anche una ulti. Numero 69, un'altra. Buono, buono. Sì, vabbè, ho trovato la fuori. Vado io, dai, vado io. Fai un po' la che si inquadra la seduta perché da in prima si vede. C'è una beata fatta. E appena quando la precede? Non mi ricordo cosa c'è in Toucheon. Niente. Jetanas. Wow, un'ana tra volanti. In Toucheon ci può trovare una Channel Air, come si chiama. Cazzo me ne frega, ce l'ho già. E non voglio montare Firefist. Puoi trovare Firefist. Sì, Firefist. Affanghiulo. Oh, che bello. Che bello arrivare primi e trovare meno roba di Gilby. Vabbè, come... No, c'è ancora due pacchetti. Se lo sapevo pattavano più. No, che andavo primo quello là. Vedi che i miei calcoli sono stati giusti, bastava che uno di... Wow. Monti battling in box. Monti battling in box. Poi tocca a me. Però bellissima come 3. Va giocato. Ora ti dico cosa c'è. Niente. Wow, una super, signori. Ma ci dolce in culo. Ma ci dolce in latte. Bene, vai. E poi alla pari di decollare o decollare. Inquadrate. Oh, io sono arrivati. Tipi tipi. Tipi tipi. Aspetta, mettiamo gli occhiali da... Porco. Che merda, guardate che merda. C'è il first pack. La devo guardarle io. Mizuki, no. Redox e Actan. C'è già usato due draghetti. Anche l'altra volta hai fatto strategia. Sì. No. L'altra volta non hai preso. Sì che gli ho preso. Ah no. No, ne ho comprato uno. Ce l'ho trovato due dentro. L'altra volta ho preso un pacchetto di Tachi. Io non ho preso... Ho trovato Lanciabran. Quindi oggi non trovo niente. Per foglie. Garnix. Se la Mizuki... Eh? Dalla merda. Un Reddjimp. A vedere che non... King Feraloff. Etto. Oggi andata un po' troppo bene. Se la che arrivo a casa mi ammazza. Sì, magari non ci arrivi proprio a casa. No. Magari il... Non c'è niente. Oh, tre Mizuki ho smizzato. Te ne rendi conto. Stream, Tidal... Niente, no? Che cazzo sono le foglie? In un'altra colonna. Cioè, guarda. Guarda quanti draghetti che ho sbustato. Uno. Due. Tre. Se se le frega. Cazzo. Dai, concludi. Bene, Avena sta impazzendo. Quattro. Cinque. Cioè, cinque draghetti su tre pacchetti. Va bene. E in più ne ho tre. Quanto è di piede bello? 43. 44, scusa. Anch'io le birche in stato. Eh. Anch'io le birche. Vabbè, concludi. No, concludite Avena, sei più bravo. Eh, allora, niente. Allora, tornato bene. Nei pacchetti un po' meno. No, sono stati benissimo. Sì, perché sono stati benissimo. Quindi, niente. Un saluto da Avena. Da Cilbi. Cilbi, Bellage. Bellage. Cilbi, Avena. E beh, al prossimo video. Ciao.